I paesi dove nascevano contavano al più 3000 anime, ripartite in nuclei familiari a numero poco variabile, dove capitava sempre più di frequente che un padre imponesse al figlio la via degli studi per combattere con l'orgoglio tutto quel rumore di lavoro distribuito dai mezzani, da fare a casa e che durava quattro o cinque ore da aggiungere alle ore in fabbrica, con le pareti sature di scatoloni e percussioni di chiodi che griffavano telai, di telai che decomponevano pezzi e di pezzi destinati a battezzarsi altrove nelle ore del commercio diurno. E dove morivano erano spesso carceri, ma prima delle carceri vere e proprie si trattava di celle smistate nel tappo acquitrinoso buio di alcuni braccetti, dove toccava aspettare oltre un mese per essere scortati in tribunale, ovvero il momento e il luogo in cui una schiera di poliziotti, un giudice, alcuni atti processuali derivati da confessioni estorte in quegli anni con una forza tangente alla tortura polarizzavano i due modelli di violenza, uno dei quali è sopravvissuto. L'altro sommerso, disinnescato dall'impiego nervoso e sommario di strumenti repressivi a cui si allineava e si allinea un giudizio storico, un decreto di scomparsa, che prestando fede ai metodi e allo squilibrio di mezzi in possesso, potremmo non esitare a definire sequestro. Una storia, qualsivoglia siano i nomi reali, o siano piuttosto i gelso o gli ortica, nata nelle scuole, trasferita nelle case sfitte, piazzata come una delle tante colate di cemento davanti alle sedi delle urne elettorali, con gli squilibri interni, il problema della soggettività maschile all'interno delle organizzazioni. La storia endogena delle china e delle valeriana, dunque la produzione di esigenze femminili compatibili alla rivoluzione, fino all'emancipazione totale dal ruolo di domestiche del ciclo stilato. Un modello di violenza e di banditismo, se il connotato della violenza, è l'insurrezione pianificata di un cicchio di differenze, una vera moltitudine che si deve ritrarre con la mestica rossa, come il colore presente nelle vasche d'acqua bollente, dove si intingevano, coi guanti fino al gomito per evitare ustioni irreversibili, delle ampolle per forgiare quelli che in una fabbrica dislocata sarebbero diventate montature per occhiali. E di banditismo, se bandire significa, come significa, dare un segnale da parte di chi ha agito dentro e fuori gli spazi di reclusione, nelle rivolte urbane, nelle carceri, fino alle celle al di qua delle grate rinforzate con le sbarre antiseghetto, da cui, hanno detto, l'ultimo di quei segnali inviati all'esterno era una fiaccolata collettiva dei detenuti politici, degli invisibili, di quel movimento, preparata rammendando lenzuola, stringendola e riempendole d'olio, lanciata nello spazio brullo, invisibile anche quello, antistante lo speciale. Questo fiato mozzo ha una storia, se le parole sono corpo, e se avere corpo è avere una storia. Grazie.